L'onovra cosa ci dice? Tutto è un coro. Sulla manovra... Sulla manovra... Ma mi sembra che anche in campo sanitario si siano mantenute le risposte. Adesso vedremo quale sono le effettive risorse che sono state messe. Ma che l'opposizione, dopo che per anni ha tagliato e non ha messo una lira sulla sanità, ma si ha messo in situazioni drammatiche proprio perché ha sempre ridotto i trasferimenti, oggi se la prenda perché dice che le risorse che sono state messe sono troppo poche, è una cosa onestamente che fa sorridere. Diciamo grazie al governo Dallameloni che ha iniziato e dimostra di prestare attenzione in modo concreto e non a parole come fanno gli altri. Gli altri parlano ma non fanno nulla di concreto. Governo Dallameloni ha iniziato a mettere delle vere risorse nel campo sanitario. Ripeto, dopo che per anni o si tagliava o non si incrementava l'importo dovuto alla sanità. Quindi onestamente sentire queste cose mi dimostra come non ci sia buona fede neanche nel fare opposizione. Però i medici sono arrabbiati. Prima di tutto bisogna vedere quanti medici sono arrabbiati. E poi è chiaro che 10 è meglio che 5, no? Non ci sono dubbi. Però bisogna fare conto anche che le risorse del nostro paese non sono infinite e anzi in questo momento le risorse devono tenere conto con i disastri che qualcun altro ha creato con il 110, con il reddito di cittadinanza, con tutti i debiti in più che sono stati assunti senza avere nessun riscontro, nessun vantaggio effettivo. Perché in realtà il 110 ha coperto un numero limitato di immobili e oltretutto non è andato a favorire le classi meno abbienti ma ha favorito al contrario le classi più abbienti. Quindi onestamente che si permettano di dire qualcosa è una cosa vergognosa.